e dà ragione a chi veramente la vita la spende per il lavoro non solo il francesino ma un po' tutta la famiglia Minopoli e noi siamo vicini alla famiglia Minopoli in questo momento e chiaramente diventa un momento di allegria due anni sul miglio, galoppo il numero uno Urrica S mezzo meccanico in movimento partono piani Ursula è unica di Biel, molto gettonata parte piano il 3 di Urrica Mont, via la macchina e il numero due alla chiusura Urubamba Thor che cerca di mantenere i birilli ma a largo incombe una sola polla e passa al comando e così impiegata al completamento del lancio in 319 e ci sono diverse rotture e questo è il fatto dei puledri e così una sola polla al comando parte alla grande Ubraie con Maisto con i colori new look della Mondial Star sarà un freeway, vediamo un po', 30 e mezzo e passa senza colpo quasi Ferri rinviene bene la favorita unica di Biel viene via anche Amber Danny Griff e la leva di Maisto va a completare i 600 iniziali in 45 e 6 cavalli che affrontano la piegata vi ricordo che era solo riservata a femmina in due anni e parcheggia abbondantemente col grattino la femmina di Minucci lunga fila indiana, mezzo miglio che se ne va in 1, 1 e 9 16 e 3 di frazione, ci viaggia da 17 e mezzo una sola polla in terza posizione poi Uriele sa precedere le altre cavalle di fronte, ci va a timbrare il chilometro allunga la leader 17 e 2 è un buon 15 e 3 di frazione per il momento nulla muta, nulla cambia con Ubraier numero 11 nei confronti del numero 8 unica di Biel e il 5 di una sola pole viene via Minucci, aggancia la leader 15 e 3, 1 e 32 e mezzo i tre quarti di miglio i due cavalli si danno l'8 ora Minucci deve guardarsi da non prendere il sulchi dell'avversario Ubraier allunga, prende vantaggio Ubraier si ripropone la lieva di Minucci Ubraier in vantaggio ancora a buon margine il palo si avvicina Jean Paul è soltanto secondo e terzo Borrino primo Peppe Maisto con questa Ubraier i colori della Mondial Sport un elegante figlia di Mondial Ok uno stallone da seguire con attenzione un ultimo Le Mondrat che alle prime annate ci ha fatto vedere già delle buone cose il Dario Battistini al training la quota addirittura 9,81 niente male 11,85 questo è il probabile ufficioso arrivo Ubraier facile il Dario Battistini al Dario Battistini al